Aprire un conto corrente personale in remoto Io sono convinto che tu ti sia chiesto moltissime volte come aprire un conto corrente personale in remoto Ebbene, non è assolutamente facile Diciamo che in questi anni ne sono successe di tutti i colori Cioè sappiamo che, diciamo, negli ultimi anni i furbetti hanno aperto società all'estero, società offshore società con azioni al portatore, conti correnti nascosti E quindi alla fine, dopo anni e anni di furberie l'Ocse, cioè il raggruppamento dei paesi più ricchi del mondo ha deciso di formulare un corpus legis, chiamiamolo così chiamato CRS Cioè una serie di normative che avrebbero dovuto una serie di direttive che avrebbero dovuto poi normare gli stati e imporre ad ogni banca di comunicare le informazioni dei suoi clienti ai rispettivi stati dove questi clienti erano residenti Niente di complicato Però questa normativa, sommata alle altre normative contro il terrorismo contro il riciclaggio, eccetera ha creato una massa di burocrazia sulle spalle delle banche che praticamente hanno preferito a un certo punto cioè a un certo punto sono collassate sai quando a un certo punto sono collassate hanno deciso di non aprire più i conti correnti E questo fenomeno viene definito proprio dall'Economist in un articolo di qualche anno fa The Great Unbanking cioè la grande debancarizzazione tradotto diciamo rozzamente in italiano La grande debancarizzazione cioè il processo di non aprire più i conti correnti Alcuni paesi hanno completamente chiuso il rubinetto ai non residenti quindi praticamente alcune banche non aprono più i conti correnti ai non residenti Altre banche aprono conti correnti ai non residenti ma la procedura, la burocrazia è molto più complessa cioè è necessario adesso fornire molta più documentazione molte più prove insomma è molto più complicato Quindi abbiamo capito che le banche non aprono più conti correnti con la medesima facilità di qualche anno fa Anzi, alcune banche non li aprono proprio più diciamo la maggioranza delle banche non apre più conti correnti ai non residenti Alcune banche, ricapitoliamo, aprono conti correnti ai non residenti ma è molto più complicato aprirle cioè sicuramente devi ricarti in loco quindi è impossibile aprirli online pochissime, pochissime banche offrono ancora l'apertura di conti in remoto Ora, alcune di queste banche non sono vere banche sono per esempio semplicemente istituzioni finanziarie come per esempio TransferWise che non è una vera e propria banca e apre conti correnti in remoto ma non è una vera e propria banca cioè cosa significa? Questa cosa comporta una serie di svantaggi per esempio Paypal non si collega a istituzioni finanziarie si collega solo a vere banche TransferWise non ha un IBAN proprio si appoggia a IBAN di altre banche di vere banche ok? Se vuoi veramente una banca è veramente difficile trovare una banca che ti apre un conto corrente in remoto Questa cosa ha decretato una serie di contraddizioni per esempio pensiamo alla e-residency Estone dove vediamo da un lato il governo che promuove la e-residency cioè la possibilità anche per i non-residenti cioè per i nomadi digitali cioè coloro che viaggiano nel mondo di aprire un'azienda in Estonia e di gestire l'azienda da lontano Dall'altro le banche Estone non aprono conti correnti ai non-residenti per cui c'è una contraddizione assurda qualcuno ha cercato di risolvere questo problema appoggiandosi a istituzioni finanziarie come TransferWise ma ripetiamolo non è una vera e propria banca quindi funziona per alcune funzioni limitate ma per altre non va bene e questa è una condizione precaria di tutti coloro che hanno scelto la e-residency come scelta di imprenditoria è una contraddizione evidente per cui come fare per aprire un conto corrente in remoto ebbene è veramente complicato ci sono pochissimi studi in Europa che ancora offrono questo servizio tra questi c'è il nostro qual è il nostro segreto? non abbiamo segreti è semplicemente il nostro lavoro vivendo e lavorando in questo ambiente questa cosa ci ha permesso di entrare in rapporto con persone che si fidano che sono disposte diciamo a correre il rischio di aprire il conto corrente a persone che non si presentano direttamente in filiale questo non significa che tu non debba fornire tutte le informazioni però almeno lo puoi fare da remoto e il nostro studio quindi ti permette di aprire conti correnti negli Stati Uniti e in Europa quindi che sono le principali piazze dove fare business almeno per noi italiani come funziona il servizio? bisogna semplicemente pagare una fee di setup una volta pagata la fee di setup ci incontriamo su Skype o su Trema o su Signal dove impostiamo appunto l'apertura del conto è molto semplice non so per quanto tempo ci sarà questo servizio dipende tutto dal CRS se inasprisce le normative e quindi chiude anche questi canali non possiamo fare i miracoli insomma noi navighiamo in questo oceano creato dal CRS e dall'Ocse che è assolutamente ostile per fare l'impresa questo lo sanno tutti ormai ha condizionato moltissimi imprenditori europei però purtroppo in questo periodo viviamo e in questo periodo dobbiamo sopravvivere queste sono le condizioni il nostro studio fa il massimo per rendere agli imprenditori europei e italiani la possibilità di continuare a fare impresa in condizioni agevoli ma insomma il CRS e l'Ocse fanno di tutto per renderci la vita complicata sopravviviamo, combattiamo questo servizio è ancora operativo finché c'è approfittane buon business